musica cosa vuol dire? porco olivio ma che cazzo non faccio che è? ma porco olivio musica 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 Grazie a tutti. Porco Livio! Porco Livio! Porco Livio! Porco Livio? Porco Livio! 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 PORCOLIDIO 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 ma anche la facilità di raggiungere altri posti in Islanda sei isolato al mondo sono d'accordo io invece avevo visto la classifica dei paesi peggiori cioè delle città peggiori dove vivere in Italia? in Europa sicuramente la prima era Milano ma dipende quali sono i parametri che utilizzano per lo smog è uno dei parametri ma il parametro dello smog e dell'inquinamento è uno di quelli che fa schizzare ho capito ma Milano è una città peggiore dai non sono mai stati non lo so a Palermo ma l'inquinamento che fa tanto comunque sia capitano non è una questione di preferire il freddo o il caldo è una questione che la cosa migliore è avere un clima temperato cioè non è che devi cedere tra freddo e caldo anche io preferisco il freddo non ti dimori né di freddo né di caldo non ci vado a vivere dentro un igloo una roba una roba fatta bene cioè non voglio vivere né nel deserto né in Islanda lo so però se devi scegliere tra un clima temperato ma non servizio un clima come quello non feggese ma quella classifica c'è c'è l'Italia tipo ventiduesima una cosa del genere in Europa Cipro è sesto Cipro ma che cazzo ma Cipro ma dove è Cipro non ho mai stato a Cipro ma no vabbè ma veramente cioè ecco se tu mi chiedi dove è sbagliato il concetto di qualità della vita il sud della Spagna Livio il sud della Spagna è sempre caldo il sud della Spagna da Siviglia Malaga Granada Marbella è Marbella lì fa caldo ma fa caldo pure l'inverno no ma l'inverno stai bene il problema è d'estate che non puoi uscire da casa no fortuna gli vuole che io non lo sento quindi no non stanno molto bene Cipro comunque va bene ma questo non l'abbiamo già visto no no era in Inghilterra macchia d'olio come si chiama val di il ministro val di val di terra ma cazzo val di quello là val di qualcosa il ministro l'istituzione ha detto eppure i bambini dali alle medie quel cazzo che vanno a scuola col cellulare hai capito coso come te chiami te si io non ci puoi se sei un marmocchio a scuola vai senza cellulare il ministro vabbè ma ci sta è giusto bravo però nel senso e l'hanno regolamentato ma certo vai giù lo faranno lo fanno e io non ci leggo come te chiami bravo levia lo sai che lo vorrebbero implementare alle superiori ma si sono accorti della difficoltà perché non sono gestibili i ragazzi dai 14 anni stretta sui telefonini e sui tablet ad elementari e medie il ministro dell'istituzione a val di terra anticipa al foglio le nuove linee guida per la scuola ascoltate voi così allora dunque nelle prossime linee guida del ministero il cellulare verrà di fatto vietato alle elementari e anche alle medie anche per scopi didattici ok in riferimento all'infanzia io voglio essere coso uno no tu sei più coso come te chiami la decisione ragione al ministro è stata presa sia per questioni di didattica sia perché spesso l'utilizzo improprio di smartphone e tablet diventa nel rapporto tra studenti e docenti un elemento di tensione ok anche per quanto porta all'aggressione va ricordate quella stessa quella là dove erano gli hanno sparato difendere il corpo docente dice il ministro significa difendere i principi di delega e di autorità che è l'architrave non solo del sistema scolastico ma anche del sistema democratico l'unesco ricorda il ministro al foglio ha già raccomandato il divieto di utilizzo di smartphone nelle classi perché se impiegati eccessivamente o in modo inappropriato i telefonini costituiscono un elemento crescente di distrazione che incide sul rendimento scolastico alimenta la tensione tra studenti e docenti inficia negativamente sulla memoria è vero concentrazione è come il navigatore in macchina aggetto ormai non si impara più le strade perché c'è un navigatore va bene su questo sto d'accordo non ho voglia cioè non c'è proprio la volontà da parte mia però capito è utile se ti si scarica il telefono è vero è utile ma più offline che sono quelle cose che ti impigriscono un po' mentalmente ti impigriscono però è pur vero che poi magari le strade cambiano te non lo sai te cambiano una via sicuramente diminuisce la possibilità di errore cioè io guarda io sto vedendo sul mio padrino il mio padrino sa tutte le strade almeno sapeva da quando ha usato il navigatore se lo mette sempre è tipo oggi hanno deviato una strada e la sapevo io come ovviare la deviata bella cultura ciao cultura cioè io di solito faccio così andando da Simone e la domenica per le prime tre volte lo uso poi se sento che sono l'ho imparata lo levo non continuo ad usarlo per quanto mi riguarda il navigatore è fondamentale sulle tempistiche perché io per esempio io so la strada da casa tua a casa mia ma quando sto su Via Laurentina lo accendo Waze a prescindere perché Waze mi dà eventualmente mi dice già da subito stai su Via Laurentina levate me lo dice subito levate fondamentale Waze perché no quello è fondamentale però fidati che c'è che queste cose poi se tu sei uno che deve tornare a casa questo c'è quei 30 secondi è scarico eh capito questo si uscisse un minuto prima no a ritorno il cazzo c'entra a ritorno a ritorno a ritorno all'andata no via è meno problematica la fascia d'ora che va dalle 6 alle 7 via Laurentina è ingestibile quindi a volte mi dice subito appena sto su Via Laurentina mi fa sbucare subito sulla o la Colombo o diciamo la parte interna dell'Euro e mi dice oh fai subito quella perché ci metti in chilometro di più ma ci metti 5 minuti di meno io subito perché 5 minuti sono tanti eh beh perché il problema sono i semafori e il congestionamento dato dai semafori dalla metro quindi Waze è fondamentale lo state sempre questo è il navigatore che serve poi sti cazzi che sa la strada cioè per carità sarò pure un po' pigro ma a me mi serve arrivare a casa evitando tutti i semafori possibili cioè ma che tesi in cula comunque devo dire che eh è molto suggestiva la dinamica che si è creata perché eh inizialmente c'era tutto questo slancio tecnologico mi ricordo che si diceva no perché tra dieci anni eh nelle scuole si farà tutto in maniera eh computerizzata cioè gli alunni al posto del banco con le cose scritte ci avranno i computer eccetera eccetera e e poi adesso invece c'è la caustiana che sta riscendendo vai giù e con con bandiamo la tecnologia no la tecnologia no cioè se tu c'hai la lavagna a schermo va va bene se c'hai un tablet dove non puoi effettivamente fare determinate cose va bene però te posso se c'hai il telefono è veramente però se ti vuoi distrarre ti distrae pure col tablet che non c'hai se tu non c'hai voglia non c'hai voglia pure con no ma non è secondo me non è troppo questione di distrarre cioè ti faccio una domanda magari sì magari no se non ci fossero stati i telefoni avrebbero sparato alla tizia eh quale tizia ah no all'insegnante ma non è il telefono sono i social per lì prende e diventare virale sui social non lo riprendi no se posso dire in parte è quello e come diventa virale può essere che sarebbe successo quando ero piccolo non c'erano i telefoni ma comunque sia i scherzi si facevano uguali cioè non è che non facevi scherzi perché non li potevi riprendere eh però non erano di questa entità col concetto di andare virale per meditare dipende c'hai meno diciamo che c'hai meno impulso di farlo cioè ce l'hai però non così altro cioè anche a chi esattamente cioè se sei il criminaletto che vuole fare l'impulso che ha l'impulso di farlo lo fai magari il ragazzo che non è a quel livello di pseudo delinquenza ci pensa due volte così ci pensa molto di meno perché sai che c'è divento virale pure io se è sicuramente la mia occasione si ti invogli ad andare virale sui social poi stai sempre a riprendere anche io Pablo ho visto certe cose allucinanti non sto dicendo questo pure senza telefoni per carità però diciamo che è un piccolo incentivo in più che secondo me può aumentare o anche soltanto il copiare il fare video di nascosto qualsiasi cosa cioè non è solo la distrazione anche perché cioè io mi è capitato su tiktok su tiktok una mattina c'è una tendenza c'è una tendenza che sto vedendo poi non so se è continuato però fino a un mese e mezzo fa era così soprattutto nel mondo femminile molte ragazze fanno le dirette su tiktok mentre sono a scuola mentre sono a lezione pensiamo a fan ma all'università no all'università no all'università no all'università no all'università no all'università no all'università 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 è vero voi lo fa perché voi vi spippettate sulle liste che fanno le live le live a scuola fanno le live di tiktok a scuola non si può fare ragazzi non lo fanno vero ma ci ho fatto caso è proprio si mettono il telefono si mettono il telefono si così e stanno con l'amica loro magari di solito sempre quelli io vedo sempre il muro dietro quindi sono quasi sempre quelli all'ultimo banco e però fanno un sacco di live su tiktok mentre stanno a scuola che è una cosa illegalissima infatti è strano che nessuno perché poi in senso comunque sia si sente sicuramente la voce del prof lo sai perché i minorenni fanno le live no Vic sono curioso per andare a virali per diventare famose no vedi qua mi cadete ragazzi questa è una cosa importantissima loro lo fanno per divulgazione perché vogliono trasmettere a tutti quanti la lezione la lezione è così se sente la lezione e se sentisse sarei pure d'accordo allora non si sente senti un brusio in sottofondo se si sente la prof è una divulgazione oggi ci sono le guerre puniche capito live sulle guerre puniche per chi non può permettersi di andare a scuola ma c'è un telefono per carità però loro non dovrebbero parlare sopra perché non si sentirebbe la lezione grazie cinghiale bianco cinghiale grazie mille grazie mille tutti i fuoricidi grazie mille ma non è che sono un fan appassionato è che ragazzi stiamo fallendo qui lo capite stiamo fallendo ragazzi siete rimasti solo voi raga Elena mi ha lasciato ora soltanto più voi ma non è che non possiamo far colare a picco a Riverite ragazzi ragazzi stiamo fallendo grazie bene che altro ero interessato non abbiamo più soldi non abbiamo più una lira lo capite sottolineatura 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 sia iscritto con il prato perché spero che mi faccia svoltare quindi vabbè se vi capita queste cose perché l'ho voluto proprio indagare scientificamente questa cosa per fare live su tiktok perché a un certo punto mi sono detto ti iscrivi alla scuola per fare live su tiktok perché poi mi sono detto ma è possibile che il signor tiktok non dia cioè non è possibile hanno sbannato sdrumox è successo? beh l'aveva detto il tizio però si tra dire e fare davvero? bello grazie tizio jackpot bella tizio jackpot grazie mille come on baby let's go party ah 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 si passate basso il canale come on baby let's go party c'è un altro piano grazie no 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 voi siete dei pusillanimi non sembra almeno va bene poi va bene vabbè ok vabbè ok quindi sappiate che hai visto il rip che ho mandato no Livio non vede niente già non vedo quelli che mi inviate a me infatti guarda non lo puoi mai sperare c'è un ragazzo che ha scritto d'Anime Night ha scritto pure un bel messaggio Livio su Dragon Ball una cosa del Kaioshino e io ho scritto povero stolto che sei vabbè non devo poter inviare cioè poter dire c'è un messaggio gli ho detto scrivi a Livio in privato e poi fine del messaggio spera vivamente che lui ti risponda perché ho visto quel nome più quindi vabbè vabbè a posto gira poi questo è interessante in Germania stanno stanno liberalizzando la cannabis la camera ha provato se la liberalizza il Bundestag e io non ce leggo allarga un po' non posso allargare la camera bassa del Parlamento tedesco ha votato a favore della liberalizzazione controllata della cannabis in Germania partita il 1 aprile il possesso la coltivazione della droga diventeranno legali per gli adulti purché siano soddisfatte determinate condizioni come stabilito da una legge approvata nella collezione di governo di sinistra centro guida al cancelliere Olaf Scholz la magistrazione il terzo paese in Europa a legalizzarla dopo Olanda e Lussi gli adulti potranno possedere 25 grammi alla volta dai e dai se sforniamo perché in Germania che il clima e tutto il resto non è bello come qua serve qualcosa per distrarsi per migliorare la qualità della vita butta insomma mi dica Germania hanno capito che per mandare i soldati si è fatto un nuovo account perché questo non è cioè questo non è il vecchio account se ne è fatto uno nuovo il che può essere che c'ha comunque 3,3k però non è quello vecchio difficile l'hanno sbagliato poi Germania ho capito per mandare ma sì ma è giusto è giusto la cannabis legale ci sta fai i soldi fai i soldi ci leviamo la criminalità Naruto il film live action ha un regista è quello di Shang-Chi mamma mia andiamo bene proprio bene ma guarda se mi fai un Naruto stile Marvel ma il problema è che è un film non è una serie ma è appunto infatti il film è un film stile Marvel che cazzo fa in due ore che cazzo racconti in due ore di Naruto ma no sarà tipo uno spin off che cazzo ne sono no no vabbè la drama non c'è scritto però è Naruto eh sì è Naruto magari è una storia originale cazzo ne so si ha le storie originale dici regista di Shang-Chi bla bla il creatore di Naruto diceva affidare il regista Cretton vabbè vediamo no infatti vabbè non è ancora tutto diciamo tutto da fare in via di sviluppo però c'è il regista di Shang-Chi però è una versione da molti anni ma a me la cosa che è strana è il fatto che sia un film vabbè ma dai c'è buio che fa un film ah comunque scusate piccolo inciso ho visto Madame Web fa cagare ma non fa così tanto cagare come mi avete detto c'è gli è piaciuto no no oggettivamente fa cagare però c'è da come mi hanno descritto il film hanno esagerato sì non sarà mai sotto a The Mask 2 a Ghost Rider 1 e 2 è brutto è brutto sa gioca con i vari Shang-Chi con i vari Eternals per carità però ve l'avete descritto come una monnezza di dimensioni epiche beh se è come Eternals vabbè però non è uno dei film più brutti della storia Eternals c'è molto di peggio no ma perché t'hanno detto il film più brutto della storia c'è tra i cinecomics tra i cosi tra i diciamo questi tra i cinecomics per me è brutto per carità la merda ma è brutto Eternals è una merda Eternals ma ce n'ha tanti parecchio sotto Eternals non li vedo così tanti perché non l'hai visto ce n'è qualcuno di quelli che ho visto vedi di Ghost Rider 1 e 2 poi ne riparliamo Ghost Rider l'ho visto Ghost Rider e beh secondo Eternals è peggio di Ghost Rider ok va bene c'è di peggio Morbius è bravo Morbius è molto peggio Morbius è molto peggio Morbius Morbius fa cagare ma sai quanti ne posso dire per carità è brutto ma perché è una trama che non c'ha senso succede una cosa senza senso con la trama però c'è sì non è manco c'è sta ai livelli l'anime grazie anime topi lanterna verde sì ecco è brutto come lanterna verde per far vedere è brutto lanterna verde però però sì tutti quelli che io non l'ho visto perché veramente mi hanno mi hanno convinto cioè la gente si strappava i capelli i due il secondo Venom è peggio secondo me il primo non oso ma panna ti dico di quel filone è molto peggio Shazam no Shazam 2 ah 2 Shazam 2 è molto peggio il primo Suicide Squad ma quello perché non c'ha senso il primo Suicide Squad non c'ha senso la trama cioè il primo Suicide Squad quello con Cara delle Vigne secondo me non è peggio di Eternas secondo me è più bello di Eternas no no sto parlando di questo eh non c'ha senso ah e non l'ho visto ciao zia ciao zia ciao hai visto poco tempo fa stavo a casa tua adesso sono qui ma no Davide più che Daredevil i potenti mezzi tecnologici ciao zia più che Daredevil coso e Electra Electra con Jennifer Garza sì vabbè però stiamo a parlare dei film tipo dei 25 anni fa vabbè ho capito ma pure questo non è che c'ha tutta sta enorme CGI a parte il ragnetto che è un po' brutto ovviamente era un rai si chiama Madame Web di che cosa vuoi che tratti eh di Locuste di internet Madame Web lei tu vedi che praticamente nel film nello Spider-Verse nello Spider-Verse non parliamo web per me parla di internet va bene va bene vabbè vabbè dai leggiamo da che iniziamo Mario Academy o One Punch Man Mario Academy sono 4 quindi sono veloci sono una quarantina siamo meno 50 quindi veniamo Mario Academy va bene ok capitolo di Mario Academy ah perché c'è mo dato che Capitano ha scritto Mario Academy col punto faremo un po' no perché poi se ne deve andare appunto dove deve andare Capitano capito lui è nome impegnato ma che devi fa Capitano va bene va bene vediamo quanto si avvicina alla fine del finale questa volta la degenerazione di Shigaraki avanza che cosa farà Deku Gwosh guardate le goccioline di sudore ci siamo noi ci siamo trasferiti ufficialmente dall'interno mentre mi difendevo con il Black Whip stavo inconsciamente contraendo i miei muscoli Maximum Fajin guarda guarda come scatta è veloce come avveloce il vento che cazzo ha fatto cioè ha tirato un cazzo che fa ha tirato un cazzotto per terra Fajin in teoria è tipo muovendosi accumula energia cinetica che poi rilascia per fare cose plus wind ah si ricorda i primi allenamenti quando tirava le palline si rupeva i diti wind pressure pressure test muscolone adesso delaware smash 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 capitolo 412 l'eroe più pazzo della storia il chiedere più pazzo della storia adesso il cazzo è sto strozzo il delaware sta sulla costa a napolis se non mi sbaglio vicino a baltimore forse baltimore è proprio non mi ricordo i disoliti sono tutti perché non c'hanno una squadra di football sti stronzi è sicuro il problema il delaware è mancante vash dai aiuto ah sei furbo pitoria ma io non ho capito che cazzo ha fatto cioè gli ha andato addosso un'onda d'urto sei furbo eee perché lo vuole tenere a distanza bella bella lynch bella lynch grazie rodo tu premi un partner bravo lynch più uno più uno dagli questi abbonamenti singoli sì in pratica e in teoria ah sei furbo o mitoria sei furbo lui ha calcolato la portata della degenerazione e ha spazzato via il terreno per fermarmi cioè che vuol dire che mo non c'è più un terreno questo è un spazio non riuscirà a diffondersi per lunghe distanze e ciò la rende meno micidiale ma è soltanto una misura provvisoria non devo fare altro che toccarlo ripetutamente che ha visto c'è un 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 fulmine la nuvola di polvere non si è ancora dissipata eh questo è il potere non gliel'ha ciucciato via no c'era ancora la nube no gli ha levato quello dei sensi eh però la nube ce l'ha ancora chissà cos'è puf oddio c'è un pokemon dietro cos'è sta roba una catena ah no è un fumetto vum madonna pof 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 oh ci sono pezzo di merda allora cazzotto taglia mano ma pof ma ragazzi ma c'è un problema però è una catena formata da black whip mazze è diventato fortissimo sto black whip ma chi questo a quel no no questo è il coso sono le fruste questo è un fumetto secondo me secondo me sembra una si capitano mi sa che stendi un po' di cazzare no quello pure a me sembra un un balloon questo è un balloon fatto male se no che che senso ha pure quello è il black whip a che serve eh ci sono tanti tanti stanti a tagliargli no lo spiegano ok allora va bene ok andiamo avanti mi spiegano questo ok comunque c'è un problema c'è un problema enorme e lui ha c'ha il senso di ragno adesso è stato colpito ma grazie al cazzo non è che il senso di ragno ti evita il cazzotto per forza se sei più veloce lo scrivi se quello è più veloce più in culo sono d'accordo hai piaciuto un cuore sta botta mamma mia guardate un raggio fotonico ma gli sono uscite le cose del ragno gli sono uscite usando la marcia più bassa del gear shift su smoke screen ho reso l'effetto che dura qua mi punza che giù giù ma uno deve andare in giro col vocabolario in mano e mentre lui non può vedere nulla io posso usare black whip per sovraccaricare il suo danger vabbè lo attacco lo attacco dappertutto perché così lo sovraccarico sta confondendo il senso di ragno il senso di ragno no ma è la marcia più bassa che non mi è chiara in che senso la marcia più bassa capitano cioè la scalata che ha fatto passata dalla seconda alla prima che ha fatto ha scalato e c'era una curva va bene nel frattempo frisci frisci è facilissimo ha rallentato il dissipamento del fumo ok comunque so quanto inaffidabile possa essere il danger sense a volte ma come il flash becchino che ti dice guarda in realtà non è così forte hai fatto tutto questo per incrementare la potenza del fascin ma aspetta no 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 shigaraki ah no quello è il coso è un portatore ah no ok shigaraki ha ancora il suo quirk di ricerca e sviluppo cos'è il quirk di ricerca l'ha usato nel modo più debole per non affaticarsi troppo e quindi per poter rendere l'effetto più duraturo cioè quindi ha fatto un fumo un po' trasparente un po' fumetto un fumetto un anime fatto una buzzata quando parte il fumetto tuo piccolino vabbè carino quello della donna gatto ma chi cazzo è la donna gatto capitano monnaggia il trio ah ok 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 ci sono ci sono ma veramente lo devi girare con il vocabolario in mano so tutto la tua posizione e le tue debolezze so tutto di chiunque mi passi davanti agli occhi fino a 100 persone alla volta non puoi respirare vero il gear shift ha esaurito il suo effetto ora sta subendo il contraccolpo posso dire che lui sa tutto e ha il danger sense ma comunque sia viene confuso l'attacco di prima non è qualcosa che tu possa scagliare a piacimento hai rafforzato i tendini e i muscoli dall'interno riesco a vederlo attraverso la tua pelle a essere onesto un attacco del genere mi avrebbe causato qualche guaio il problema è che hai troppe cose che devi proteggere Midori ma non abbandonerò quel ragazzino in lacrime chi è il ragazzino in lacrime mi sono perso penso quel bambino che stava prima a guardare la cosa forse chi cazzo è il bambino Shigaraki ah no è Shigaraki ah è lo Shigaraki dentro di lui ok ah si vabbè lo devi predimere certo 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 va bene Sasuke ognuno vede il mondo attraverso lenti diverse che succede non vedo niente è scappato e quando qualcosa non ha senso cerchiamo di darglielo noi tu stai solo cercando di risolvere l'enigma che rappresento attraverso le tue lenti patetiche lo hai visto vero allo stesso modo in cui vedo i tuoi fantasmi tu vedi dentro di me quindi anche in mezzo al fumo avresti dovuto notarlo guarda attentamente c'è un buco di culo è un buco di culo gigante sopra di noi effettivamente ecco lo stronzone sta per uscire quel ragazzino ha smesso di piangere da un bel pezzo da un pezzo one piece ha cambiato le lenti attraverso cui vede il mondo ed è diventato Tomura Shigaraki non c'è più sofferenza dentro di me non c'è sofferenza ma cioè allora aspettate cioè qua è questo questo è questo no questo è questo cioè questa pallina è questo che vuol dire questa pallina è questa questa pallina che c'è in mano è questo no Lidio che cos'è ma no Lidio è una visione eh ma che vabbè no Lidio no sì ho capito quello è il mondo interiore di Shigaraki Lidio ma che stai a dire ma quando ma dov'è ma quando ma non si è mai visto sto mondo ma dov'era è una cioè ti sta facendo ti sta spiegando come si è evoluto Shigaraki ok Livio sfogliatore ma non è sfogliatore che cerco di capire a nonnina ecco a nonnina voglio salvare quel ragazzo arrenditi Izuku alcune persone non possono essere salvate lui rappresenta l'ostacolo più grande sulla tua strada da eroe e non importa se non riesci a superarlo vai sommo scrivi si può fare un fumetto con le parole finiscilo con un unico attacco fallo Izuku dobbiamo finire il mangarotto i coglioni a culo ancora via energia united state of smash no come no se fosse così facile il dolore del passato così facile il dolore del passato non ti distruggerebbe così tanto se lo hai nascosto sotto il tappeto hai finto di non vedere quelli che non sei riuscito a proteggere e hai nascosto il loro dolore sotto il tappeto non smetterò di combattere finché non avrò fatto a pezzi quel tappeto con le mie stesse mani ed ecco perché mi sono opposto a lui ci stai dicendo di dedicare i nostri sforzi a qualcuno che vuole salvare il nostro acerrimo nemico pensavo avesse un animo pacifico perciò ho guardato nei suoi ricordi e finalmente ho capito questo ragazzo non si arrende davanti a nessuno ma è Naruto forza di mille uomini va bene nemmeno davanti a colui che dovrebbe odiare l'amore ragazzi Livio conosci la punteggiatura? no sto cercando di imparare aspetto lezioni ho un'altra persona senza Quirk sceglie sempre di credere nella bontà che risiede dentro ai loro cuori tap 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 oddio oddio didino cosa? che cosa? io non odio le banalità ragazzo fa come ti dico contiamo su di te no no devi lasciare andare il one for all il piano segreto del secondo portatore sarà forse ciao King grazie King ma chi è? è coso è Ed di Fullmetal Alchemist si sacrifica per vincere deve rinunciare al potere è quello il segreto cioè boh strano vediamo andiamo avanti no perché sembra quasi che ne so no ma no vabbè questo cioè non riesco a capire questo dovrebbe essere un flashback teoricamente però in realtà è come se te la mettessi come se All Might fosse morto e fosse entrato anche lui nel mondo onirico e gli dice sta cosa non lo so sarebbe quasi ora però mi sa di no sta rivedendo la sua vita no questo l'ho capito però quest'ultima parte vabbè vediamo un attimo che succede il talk for all bello il talk for all che cosa vedremo quando il one for all e all for one entreranno in risonanza esploderà tutto guarda queste da queste ha fatto intelligenza artificiale questo è All Might questo esatto ma se lo decidi te perché un contest lo prende lui un contest glielo dai te non è finita finché io non dico che è finita vabbè fa una cosa alla Neo gli dà alla fine il potere dell'oracolo però sto dentro a Matrix sto un culato coglione questo col four one questo che è Shigaraki è Stars and Stripes quella sopra Stars and Stripes ah ok sì 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 zombie zombie and stripes è come quando muore Megatron lo volevi il cubo tu hai un filo dritto dentro la panza esatto troppo potere per te te l'ho dato io non l'hai preso maestro sono visioni orini ah era suo il ditino guarda è un troll ma sei inchiattita questo è un po' di body shaming vabbè però è vero avrà fatto una bella vita poca palestra dici staffa no no ha smesso di fare cardio sì ma palese oh ma dai il colon non era così prima si è lasciato un po' andare sì 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 dopo la morte non ha più stimoli non ha più stimoli sta lì da sola tutto il giorno è sempre stata così no no non è sempre no ma c'è anche il doppio mento ma guarda c'è il naso c'è il mio naso è un po' strano sembra invecchiata una matrona ho trovato un bambino triste è qua all might se ti addormenti morirai non mollare non mollare da quando sono cadute le comunicazioni non ho idea di che cosa stia succedendo ma è probabile che Midoria stia ancora combattendo beh è facile è come previsione da fare è stato un sogno no quella sensazione è stato come quella volta come il ragazzo è lontano il loro volere scorre attraverso di me ah schioppi finalmente il potere tramandato da generazioni si sta sfilacciando tu sei ancora vivo però blocco di piombo che cosa è stato perché ho pensato a te sono assolutamente certo di averti disintegrato e basta sta inizia ha rotto i coglioni finché le persone si faranno avanti per salvarsi a vicenda qualcuno ridieterà quella volontà di eroismo nonostante sia morta ne è rimasta una traccia che lavoro difficile arruolatevi dicevano puoi diventare un eroe? stars and traps la vogliono rendere più importante di quello che è dal giorno in cui l'hanno fatto apparire puoi diventare un eroe che vuol dire Livia? che cosa vuol dire secondo? lasciare andare il one for all? perché stai calmo ci sentirà dentro a Shigaraki c'è un blocco nero come il piombo rappresenta rappresenta la sua rabbia le sue frustrazioni e tutti i suoi ricordi dai dai da qua mi dicevo si è visto mille volte si dai che mo lo 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 redimiamo forza dai che diventa buono adesso e appena diventa buono se lo uncula all for one è un attimo tutti questi elementi si sono fusi in un'unica entità ora la sua forza di volontà si fonda su un odio puro come la roccia ma Yagi ha trovato una crepa bravo Yagi la domanda mo chi è Yagi? è uno dei nove qual era Yagi? è Yagi dai mo vedi chi è Yagi bravo Tago sì e probabilmente si tratta di una Yagi è All Might ma come All Might si chiama Yagi ah Toshinori eh perché l'ho sempre chiamato Toshinori ma Yagi proprio non Gambaronà Toshinori sì ma chiamalo All Might no eh questa si è un po' una jujutsu cazzata e probabilmente si tratta di una ferita ricevuta durante lo scontro con Stars and Stripes una ferita mentale non una fisica non è una crepa che può essere riparata con un quirk ma questo cosa c'entra con il One for All eccolo allora ragazzi adesso devo essere molto molto bravo a cercare di tirare questo supercazzo allora dopo aver assorbito la coscienza di All for One Shigaraki è diventato troppo potente al tuo stato attuale non hai speranza contro di lui ci siamo ok dobbiamo attaccarlo dall'interno ok come sono un culamo se trasferiamo il One for All a Shigaraki avremo la possibilità di prendere di mira quella ferita e ciò ci permetterebbe di colpirlo al nucleo della sua coscienza il nucleo della sua coscienza è bello non c'ha senso però è bello ma poi cosa c'entra Starz and Stripes perché Starz and Stripes sta di là sta dentro c'è te fa da collante è un infiltrato va bene colpire la ferita trasferendo che cazzo sta a dire aspetta che senso ha se lo trasferiamo lui inizierà a sfruttare i quirk come è successo a Shinomori devi espandere il concetto di trasferimento bello il concetto di trasferimento mi piace un sacco ormai dovresti sapere dai su sono anni che ci lavoriamo su sta cosa addestramento mentale esattamente lascia che te lo spieghi in modo semplice per farti capire grazie quando quel tuo amico di infanzia ti deve passare qualcosa come fai? come lo fa? come lo fa? devi passare? sì ok un po' troppo forte eh? usando troppa forza si finisce per fare dei danni si potrebbe perfino distruggere l'oggetto che si sta passando e poi è inutile averlo passato ora applica la stessa logica al one for all un garbo te lo metto doppiano piano non sappiamo se funzionerà perciò andrò io per primo ok no magari lo vuole trasferire brutalmente così non gli funzionano bene i quirk no quello che te sta a dire è che facciamo le cose piano piano non tutto insieme se no diventa troppo forte Shinomori è stato l'unico che è riuscito a prendere quindi se un singolo portatore può essere rimosso ci deve essere un modo per trasferire un singolo fattore i nostri fattori quirk sono stati assorbiti dal one for all ora ne facciamo tutti parte e sono diventati dei fattori speciali e molto più potenti se dosi bene la tua forza mi polverizzerò lui verrà colpito e non potrà usare il mio quirk ok se serve una cavia andrò io per primo il mio smoke screen è il meno utile siamo d'accordo siamo d'accordo siamo d'accordo no no andrò io no fa cagare anche il mio di potere è più schifo oh ma se il piano fallisce Shigaraki si impadronirà del gear shift sarebbe lo scenario peggiore ora come ora non riuscire a muoversi equivale a morte certa se ti libri del mio quirk smetterai di subire il contraccolpo dei tuoi attacchi e anche se Shigaraki finisse per entrare in possesso entrarne in possesso dovrebbe sopportare lo stesso livello di sfinimento ma non mi pare che Shigaraki abbia sto problema regenerativo però capo ti ho sempre seguito ma questo è troppo rischioso figa infatti è una scommessa abbiamo attraversato tempi bui non c'era tempo di provare emozioni potevamo solo continuare a combattere ma sono fiducioso se lo sai perché perché siamo in un battle show fatti forza con questo ora anche questo ragazzo sta soffrendo nonostante ciò non vuole negare l'esistenza del cuore altrui e io voglio credere che abbia ragione il fatto che tu mi abbia aiutato all might è una benedizione è da un po' che stiamo insieme sei indeciso non perché tu sia assetato di potere o abbia paura della morte anche se è il tuo ultimo dovere sei ancora Toshinori non importa fin dove arriverà questo ragazzo per lui il one for all sarà sempre prendi a cuore questo potere ragazzo te lo sei guadagnato a tutti gli effetti il tesoro che ha ricevuto dal suo eroe preferito che cosa state borbottando la sotto lo farò tutti che piangono bangio bangio resta al suo fianco a ogni costo il black sweep sarà la sua ancora di salvezza lo affido a te ricevuto mio eroe il resto aspetta a te il resto aspetta a te che cosa vuoi fare in zucumidoria lo farò che cazzo è dietro un berserker adesso che cazzo è apostolo basilit che cazzo è sta roba gli ha rilevato un altro braccio eh sì ogni tanto voglio dire le mazzate è arrivato Garou questo è leggibile non ce ne frega un cazzo guarda allora hai rafforzato i tendini ah è la cosa di prima dai rafforzati i tendini quindi proprio guardandoti non avrei mai immaginato che fossi un eroe sta controllando il suo stesso corpo con il black whip ah ok power shaming power shaming guardandoti non avrei pensato che sia perché perché c'ha le striature nere cioè perché no non ho capito guardandoti non avrei mai immaginato che fossi un eroe cioè che power shaming vabbè sì come come quello lì che che manipola la mente che gli dicono tutti che c'ha il potere da cattivo cazzo vai caccio l'eroe comunque no è figa sta cosa che utilizza le fruste per muoversi un po' macchinoso però diciamo che ottica batte shonen queste cose le accetto cioè ci sta poi i disegni sono sempre fighi cioè il concetto non sono brutti capitoli per carità però voglio vedere come la conclude perché tutta sta chiacchiera mi sembra un po' anticlimatica rispetto a a quello che dovrebbe essere un combattimento finale sì è più una spiegazione ma sta merda sarebbe questa è l'evoluzione delle fruste no lui usa le fruste per muoversi ma le fruste ti fanno diventare così questo mi sta a dire se le hai messe intorno al braccio intorno ovunque perché è diventato carnage della marvel improvvisamente per le fruste perché tutte le ferite per le fruste no sbroccate ste fruste vabbè non è che se ti cambiano aspetto sono più forti beh non penso che gli abbiano solo cambiato aspetto secondo me anche perché vedo degli artigli sulle mani quindi se non mi adesso gli artigli sulle mani vedo degli artigli che è finito vai vai gira gira guardiamo che cazzo fa tu hai poteri di carnage fidate vai sentiamo vai leggi giù nel canestro hai riassunto gli ultimi capitoli vabbè ma è importante ma è la sconfitta di shigaraki che porrà fine a questa guerra questo è il riassunto dei capitoli messo di fronte ai suoi schiaccianti poteri di degenerazione e rigenerazione Deku non può reggere il confronto il secondo possessore ha proposto una strategia rischiosa trasferire l'all for one a shigaraki lanciando così un attacco a livello mentale riuscirà Deku a separarsi da questo potere generazionale questo l'ha capito pure lui che ha fatto un po' di confusione però la poteva spiegare un po' più semplice o semplice non capisco perché deve vabbè sta usando black whip per muovere il suo corpo distrutto è entrato in azione appena ha sentito il piano e che modo unico di usare il quirk sta andando alla grande pare di sì a prescindere da quello che mi succederà è a questo che serve il mio potere non si limita a seguire gli ordini il modo in cui ammira ogni singolo quirk sta parlando di te fa brillare il one for all ancora di più guarda guarda c'è pure le zampe tipo spiderman sì oramai è diventato l'uomo ragno bello ma lui gli piace una certa cambiare in base allo scontro questo è OP è fortissimo questo dovrò stare al passo va bene con la velocità di shigaraki senza l'aiuto del gear shift per poi passargli il secondo non ho scelta devo scommettere su questa mossa vai affinché il one for all venga trasferito è necessario che il suo possessore ceda volontariamente il proprio dna a qualcuno devi dare il capello che fa? non importa come basta che tu assimili il mio dna il one for la cosa di all might era però deve essere cioè all might gli ha dato volontariamente un capello cioè deve essere una cosa volontaria non deve essere volontaria l'altro se lo prende però è volontaria perché se lo prende il one for all può essere trasferito solo se chi lo possiede è disposto a passarla a qualcun altro può essere dato a un destinatario riluttante ah ok l'importante è che sono io il destino il padrone che ti do la cosa a te poi se te ne vuoi te la infilo ti voglio la foca al fuagrato infilo un gola a forza da mangiare sti cazzi che non lo vuoi siamo stati Bruce Lee siamo stati Bruce e io ciao capitano non ho capito che vuol dire siamo stati Bruce e io Bruce sarà uno dei sti coglioni chi è Bruce ma quando mai uno si chiama Bruce adesso chi è il padre un Mr. Jones ho capito però è stato a fare botte risposte su sta cosa chi è Bruce è uno di loro vabbè siamo stati io e Bruce a formulare questa teoria e l'abbiamo anche testata è il terzo ok che nostalgia siamo ancora legati a questa missione persino dopo la morte farò farò colare il mio sangue nelle sue ferite a Bruce dice capitano è quello con la coda e i tuoi capelli lunghi è il terzo vabbè non so se il terzo coincidono magari ma Shigaraki continua a rigenerarsi non ha ferite che palle sto dizio dovrò farlo appena lo colpisco giusto sto per perdere per perdere i sensi a causa del contraccolpo del mio ultimo attacco non posso fallire l'attacco di poco fa aveva qualcosa di strano perciò mi sono tagliato via la mano prima che potesse colpirmi ancora con questa cosa la giu questo è Jujutsu Kaisen ok se l'è tagliata lui perché ripeto fai prima a schivarlo che a tagliarti il braccio ma che senso ha però devo dire che è incredibile la puntualità con cui è successo sia in Jujutsu Kaisen che in Mario Accademia praticamente nello stesso mese la stessa dinamica sì sì ripeto fai prima a spostarlo il braccio che a tagliartelo lui ha in mente qualcosa il suo corpo è sopraffatto dal dolore fa fatica a respirare qualunque persona sana di mente concentrerebbe le proprie energie nel proteggere se stessa qualunque persona sana di mente e va bene vorrei dire che continuerò la mia operazione di distruzione tu questo paese ogni cosa dobbiamo concluderla qui e ora io ti passerò questo potere io ti ucciderò un numericone oppure una lettera può essere io può essere 10 smoke screen il mio smoke screen è il meno utile perché se attivo il mio potere ogni piano andrà in fumo non riuscirai a prote eeeh e che cazzo è ok questo è uguale a quello che abbiamo visto prima ha usato le catene 8 ottavius guarda l'octopus posso dire un po' troppo cioè anche meno fortissimo sto black whip ma poi un po' meno vabbè ha staccato un pezzo di terreno per evitare la diffusione ma quando quando lo ha respinto ha staccato un pezzo di terreno per evitare la diffusione ma quando per strappare via parti del terreno stava solo aspettando il momento giusto per usarlo questa cosa è strana che due volte ma perché è un flashback appena succede cioè tipo questo è un flashback e siamo entrati in un loop signori esattamente come sistema anti degenerazione della UA arriva qualcosa da dietro grab chi cazzo è solo il mantello è la stessa esca che ha usato contro quel cecchino ma il quirk di ricerca indicava proprio questo punto vedi perché c'è un pezzettino c'è un sangue ha reagito alla presenza del suo sangue un momento quella luce non è di Midoria allora dov'è e allora dov'è oh ho capito troppo lento chi lo dice troppo lento vabbè uno dei due penso Midoria Serge reagisce alla presenza di qualunque persona su cui il suo possessore posi lo sguardo perciò ho scommesso mi vedo vi vedo fantasmi sul fatto che reagisce anche alla vista dei possessori ma perché gli ha piato la jujutsu io non capisco cioè che bisogno c'è di fare la jujutsu io non è poi che voglio rompere sempre cazzo però porca puttana c'hai avuto 300 e basta capitoli no 400 capitoli per strutturarmi dei poteri che mi hai tra virgolette insegnato ok perché adesso mi devi fare gli spiegoni su qualsiasi cosa perché stai reso conto che se non ti fan ci capisci perché tutti vogliono essere hunter hunter ma sbagliano ma nessuno ce la farà ma non serve dragon ball insegna fate le cose semplici le cose semplici funzionano ma non è semplice cioè se tu mi fai un bel world building e mi mi strutturi bene e mi fai capire come funzionano i suoi poteri poi se fa le cose le capisco io non serve che ogni volta ha fatto questo perché ha fatto questo perché ha fatto questo poi fa questo perché ha fatto io sono arrivato un po' a questa conclusione cioè i mangaka quando arrivano alla fine secondo me hanno un po' una mania del non è abbastanza cioè quale che sia la loro idea pensano sempre che ci deve essere qualcosa di più ci deve devono fare qualcosa di incredibile di non basta più la la dinamica classica dell'opera che hanno che hanno scritto e la maggior parte delle volte finiscono per inerpicarsi in queste questa selva di roba che che invece secondo me peggiora le opere cioè ogni volta cominciano a fare tutti questi mega pensieri non lo so non lo so non 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 sto a parte il fatto che in questo caso proprio io non sto più percependo ma io l'accademia cioè sti capitoli mi sembrano un po' asettici cioè si salva un po' coi disegni che rimangono sempre molto belli però boh non lo so non mi sta convincendo neanche a me però vediamo neanche a me effettivamente non provo più no magic ma non è la tavola o la singola spiegazione il problema il problema sono tre capitoli di 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 cioè di spiegazioni secondo me nel momento sbagliato nel momento sbagliato non cioè non è mentre si stanno dando gli ultimi cazzotti che devi cominciare cioè sembra veramente quello che quello di cui si lamenta Livio su record of rug che stanno lì che tu aspetti che si picchino invece danno un cazzotto appuntata e poi è tutto un flashback che ti spiego te dico un overthinking continuo c'è il momento per l'overthinking secondo me ma c'è anche il momento delle mazzate e poi così all'overthinking lo devi fare molto bene perché un attimo che ho semplicemente di sai che c'è t'ho un culato so che c'è il danger sense siccome ti devo dare il mio dna ho messo il dna il sangue sul mantello e t'ho un culato perché così ti pigli il sangue perché io sapevo che c'è il danger sense io posso pure posso pure accettare il fatto che mi fai tutta una spiegazione all'inizio però non è che poi ogni pugno che dai poi mi devi spiegare esattamente tutto quello che è successo cioè se sei bravo riesci a spiegarmelo da prima se ogni volta poi ti perdi in parole 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 perché dice è vero che c'hanno tanti poteri e quindi è difficile da far capire bene tutte le dinamiche però ti faccio l'esempio crollo contro isoga per chi l'ha letto nel manga cioè lì c'è lo spiegone però la funziona meglio perché tu effettivamente i poteri di crollo non li conosci no 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 di questi due noi i poteri dovremmo conoscerli e quindi non ha senso continuare a farmi gli spiegoni continui certo quello è vero ma si aggiunge anche l'altra dinamica ovvero che tutto lo spiegone di crollo è parte integrante della battaglia cioè lo spiegone lo fa lui stesso a isoga e lo sfrutta per ingannarlo e quindi cioè alla fine c'hai effettivamente quel bah cioè diciamo ci potevi arrivare anche tu se stavi molto attento a come sarebbe andata la fine qua è molto più sul diciamo sul teorico sul dobbiamo cercare di fare questa cosa perché lui mi ha detto che secondo lui è la cosa giusta da fare in questa situazione grazie Marcun bella Marcun diciamo in un diciamo in un campo di combattimento totalmente inesplorato quindi sei un po' anche spaisato tu dal sì ma quindi c'è bravo trollo del muore vabbè comunque sì e poi ripeto non è che io mi lamento sempre mi lamento sempre delle stesse cose in realtà cioè se ci fate caso più o meno sempre le stesse cose e il problema è che queste cose vengono riprese da più manga poi a me Mayra Accademia piace a me piace Mayra Accademia è un po' sti ultimi capitoli cioè vedi questi po' gli schimini una dietro l'altra al trono tiè 17 sottolineatura trono sottolineatura del sottolineatura ma vaffanculo stai venerdì 17 sai che è partito dai treni ragazzi siamo poverissimi sono 18 è perché qualcuno non si è fatto i cazzi su allora cioè il mini spieghino il DNA il mio DNA è pieno delle vestigia del secondo possessore vedi questa cosa no ma che vuol dire è pieno delle vestigia bloccando il suo campo visivo ho creato un'apertura ma perché che cazzo è successo a Jujutsu ho capito ho capito hai capito illuminaci maestro non posso però chi ha letto gli ultimi capitoli sa perché tu hai letto gli ultimi capitoli no però gli ho scorsi di chi? di Jujutsu Kaisen dice vabbè ma lo sai pure te e Okotsu e i miei Tatori contro Sukuna ok siete quella cosa stacca a pallettoni lì a Jujutsu Kaisen perché è lo scontro fichissimo dove cerco il dominio del dominio dentro il subdominio del nanodominio del Cristo di Dio di dominio lo faccio pure io perché della tira però te posso dire non mi invento sta cazzata pure io lo scontro lo scontro finale Sukuna contro i Tatori eccetera secondo me funziona meglio cioè ma quello è impostato tutto così c'è senso ma è più veloce cioè è più lento Gojo contro Sukuna secondo me quest'ultimo regge cioè sta è ritmato abbastanza bene anche il colpo di scena lì te lo fa capire no Matte ma no ma certo ma c'è c'è pieno di spiegoni Hunter Hunter però anche lì c'è c'è tutto il momento pre no la preparazione in cui senti tutti quanti i pensieri i primi secondi della della cosa che c'è la voce fuori campo che ti spiega mentre tutto ha rallentatore poi botte poi quando so botte cioè so botte e poi magari dopo questa cosa è straniante dopo Toc cioè non l'ha mai fatto non ha mai fatto c'è un altro pensiero ha fatto tanti balloon su Stars and Strike ma tu vedevi il balloon e dicevi ok me lo sta spiegando ma addirittura gli schemini alla Jiu Jitsu non erano merito se stai a fare gli schemini alla Jiu Jitsu o hai capito che c'è forse li ha inseriti un paio di volte esatto poi da lì in poi è tutta strategia c'è il combattimento con Yuppie è fighissimo è fighissimo perché c'è tanta strategia c'è pure tanta emotività c'è tutta la parte di Knuckles che dovrebbe seguire il piano ma si rende conto che se segue il piano sta lasciando morire tutti i suoi compagni cioè capito entri molto dentro la cosa perché ma perché sono perché nella diciamo nella complessità della strategia e tutto quanto poi le parti forti sono semplici cioè arrivano a tutti cioè secondo me è una cosa difficile da fare ma che lì viene fatta molto molto bene ma sono le tempistiche grid qua però o poi non lo so magari andiamo avanti invece a un certo punto poi il puzzle quando lo vedi nell'interessa torna sono le tempistiche grande luco grande luco grazie mille sono le tempistiche che non tornano perché farlo proprio adesso guarda casa adesso c'è un arco molto bello in cui c'è un combattimento molto figo iperatteso tra dei personaggi molto forti che sta portando al finale Giojutsu Kaisen con gli spigoli questo combattimento c'è questa serie di inizie sta andando avanti da inizio a capire sommo buta quando dice che The Mo Slayer è fatto bene sì temeno temeno e basta cioè non è un'opera che dici wow però intrattiene è quello che deve fa un fumetto non deve per forza cioè Moira Academy ha sempre intrattenuto i combattimenti sono sempre stati molto rapidi molto dinamici i disegni perché i disegni poi sono fighissimi quindi funzionano bene serviva no per la Partner Plus valgono soltanto gli abbonamenti singoli fatti per se stessi pagandoli quindi non valgono tutti quelli regalati non valgono quelli col Prime pure con la nuova che stanno inserendo la nuova Partner per il Partner Plus i punti che valgono sono quelli delle persone che si sabbano da soli con i soldi comunque ragazzi se volete donare cioè nel senso è ci fa schifo perché siamo poveri anche perché attenzione cioè con la Partner Plus aumentano le percentuali di guadagno poi su tutto quindi poi cioè gli abbonamenti donati poi sono comunque sia più più rinunciativi per il canale poi ripeto un concetto molto semplice se voi allora se avete solo il Prime e lo volete dare a noi grazie grazie mille se in generale pagate delle sub in giro e avete il Prime il Prime possibilmente non lo date a noi se potete datelo magari a uno streamer grosso o qualcun altro che o magari che non riesce a raggiungere la Partner Plus perché a noi ci aiuta questa cosa una volta sbloccata poi rimane quindi è questo se 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 potete fare il cambio se non poi cerchiamo di chiuderla qua comunque sia Dan ma sicuramente cioè nel senso se se effettivamente Sdrumox S è sbannato le occasioni per fare live ci saranno per fare un animo attento abbiamo fatto la live quando era bannato ma se è sbannato diventa solo più semplice facci le live e chiaro mo ci vorranno fare tutti le live ma sì sì infatti poi allora vabbè ho usato la sua vista potenziata contro di lui e Smokescreen mi ha permesso di lanciare un attacco a sorpresa cioè a me mi fai ma manco mi ha convinto sta spiegazione ma poi scusa posso dire che è la stessa spiegazione che mi ha fatto il capitolo prima perché me la stai rifare l'altra volta tra l'altro tutto mentre c'è il tizio di Smokescreen e fa il mio potere non serve un cazzo vabbè ma era per dire tutti sono utili questo concetto sono sicuro che che avessero dei quirk fantastici il modo in cui ammira ogni singolo quirk no 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 sta tentando di rigettare no scusate il mio corpo sta tentando di rigettare tutto questo non posso lasciare che mi colpisca ah ancora il tasto delle donazioni non funziona siete delle capre ah si no le donazioni su sto canale ancora sono boom oddio questo è Goku ragazzi questo è Goku boom cazzottone in mezzo arpetto in the pet grande trono grande trono grazie mille trono tra l'altro donata a i donatori che ricevono le donazioni è tutto è tutto un cerchio della vita è una giostra che va grazie mille comunque immaginatevi un tizio che ha visto le prime stagioni in my academy e gli fai vedere ste immagini dici che cazzo è chi è Goku sembra ecco questo sembra un po' ricordo bragg sì sì coso Ercole dai ragazzi livello 4 75% ieri sera mi hai tenuto compagnia trono se ho visto Simmarillion ho anche fatto una bet sui commenti su quando lo finirai il Simmarillion vediamo vediamo se c'ha zecco non ti preoccupare sono sempre stato niente più che un fantasma la mia coscienza sta svanendo quindi prima che venga assorbito da Shigaraki io ho bettato 2027 vediamo morto ci è arrivato dentro il mio mondo interno sto cazzotto tutti i defilari fai di persona sei disgustoso questo tizio con tante mani è un amico del signor Stain giusto? voglio unirmi anche io alla tua unione dei cattivi ma io anche io voglio essere un eroe per papà sono qui solo perché Stain mi ha ispirato ad agire non so neanche io che c'entro in questo manga mi hanno dato una parte che vabbè ci poteva stare però insomma il festival sportivo e il mio scontro con Todoroki spinner che sta succedendo i vostri ricordi si stanno fondendo insieme c'è entrato lui quindi non c'è entrato il minchiottino del fumo ma c'è stato è come Enrico è morto comunque occhio perché la teoria di Maggi sta prendendo forma beh sì sì prima era scontata prenditi i meriti era scontata scontata no però no no non ti perché mi sembra sempre di dica no no invece no no non ti fermare guarda c'ha l'anello il sesto sta funzionando è stato il secondo ma ancora non è sufficiente devi continuare ecco pure sta cosa è stato il nono il quarto il terzo non ci sto dentro sì 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 che si stanno connettendo ecco vedi ad esempio sarà che poi ho un un grado di 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 interesse maggiore però io mi ricordo molto meglio i principi di Hunter Hunter che i nove dei 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 cosi ma per me sono molto uguali che li chiama sempre con nomi a volte li chiama col nome se li chiamassi sempre al stesso modo col soprannome io ad esempio dei principi attualmente già mi sono scordato quasi non è vero guarda che se il primo chi è Hulk no è Benjamin dai quello la branda che il biondo sì secondo vabbè mi ricordo il bar il marmocchio no 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 in ordine non li sono il secondo è Camilla quella che quando l'ammazzano ammazza la gente quella psicopatica ok terzo quello dei monetine tizio pelato mezzo asiatico io so chi sono non so i nomi io se mi dici monete penso al maggiordomo no quello che c'ha tutto quel marchigegno come stand che sputa le monete ogni tanto e le dà ai sottoposti è tardi mi ricordo seridonici poi le minchiottine quella che poi schioppa che ernerna le due minchiottine le minchiottine urkenberg poi c'è il bamboccio il bambino che è quello che c'ha lui c'è i nomi non me li ricordo poi se mi dici su beppa che è quello che si fa le canne ah su beppa è quello che si fa le canne ok si però ho capito c'è poi c'è quello che schioppa l'arcinese me le devi strapolare come informazioni perché eh si ma questi io e vabbè ma questi qua ti dico quello con la frusta eh no esatto no no questi però li sai cioè se io ti dico i poteri c'è il frusta il danger sense il fumo nonnina nonnina all for one 5 ne mancano 2 sono 7 l'hai messo fumo tu un fumo l'ho messo fruste la nonna quella che vola e poi c'è coso all might me ne mancano 2 5 su 7 te li vi ho capito stanno lì dentro da protagonista year shift facin è perché c'ha un nome complicato eh vabbè ok vedi dai 5 su 7 questi sono i poteri sono i personaggi i personaggi proprio non sono personaggi cioè nel senso vabbè però anche su anterate mi li hai spiegati dicendomi il potere perché se no cioè se mi dici ulkenberg lì che ha fatto no ma come ulkenberg è quello che è andato dal padre a dire che lui non gli stava bene come eh vabbè ma io non mi ricordo cioè non mi ricordo ma come qua se ti dico tizio questo ha fatto questo ti viene in mente perché le sorelline le sorelline non te le ricordi per potere le sorelline te le ricordi per la vicenda sì cioè non anche lì se ti dico se ti dico no ma perché quello è un personaggio cioè quello è l'unico vero personaggio perché te lo presentano più volte ti spiegano i rapporti con altri personaggi l'opm lo leggiamo un'altra volta vabbè dai dai leggiamo ma questo è veloce su dieci pagini vabbè ma non è che dobbiamo lasciare per forza dai dai la minchiottina dai la minchiottina ciao minchiottina ma che cazzo c'entrano sti due sono visioni anche loro sì lui sta nel mondo delle persone spuntano fuori da nulla questi sono no no mica stanno nel mondo nirico questi stanno a combattere quando sono arrivati e adesso ah grandi questa è la gag sì è tutta visione no questa è visione no può essere che questa è la scena vera ma lui c'ha le visioni dietro no 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 questi sono apparsi davvero secondo me no sono troppo grossi basta che scendi e lo vedi ma no sì saranno delle visioni che come fino a pagina 1 come deve essere questo è il capitolo dopo ah questo è il capitolo dopo ah ok 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 gli stanno dietro vabbè vediamo vediamo scendi mi sembra che tipo stiano in questo tunnel no tipo visioni sembra rigetto i loro ricordi si stanno fondendo l'ho capito questa reazione accelerata è stata causata dal one for all nel momento in cui è entrato in risonanza con il fattore qui cioè me l'hai appena detto basta come come mai riesco a vederli adesso come mai riesco a vederli adesso ora che abbiamo trasferito il secondo abbiamo raggiunto un punto critico vai spiego che punto critico è mio fratello desiderava un cuore forte per poter rubare il one for all ma per quanto potente sia diventato il vero cuore è sempre stato qui il vero cattivo il cui spirito è un composto di odio e malvagità di malvagità dobbiamo mettere fine ai suoi crimini è quello che abbiamo fatto fin dall'inizio siamo stati tramandati di generazione in generazione al fine di raggiungere questo momento vai entriamo tutti insieme dai beh cazzotto le galassie bello per ferire il suo orgoglio ottimo lavoro voi due ma sembra molto un mondo nirico questo ma sì è tutto un anche perché questo non è shikaraki adesso questo animato si capisce meglio perché è tutta una cosa onirica dove si fondano i ricordi ma poi ci sono due due froppi ma sì sono ricordi che si uniscono è un po' di casino che cazzo è sta roba una paletta che è beh ma secondo me è all'occhio nell'oscurità lo so è coso è Kurogiri esatto Kurogiri beh quello vero dopo probabilmente Kurogiri mi sembra un occhio strano questa cosetta vabbè shikaraki bidoria va va vai forza picchialo 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 grande onda la dragon ball che buca tutto ed entra nel mondo onirico le anime si disperdano un cazzottone in mezzo a dita Il trasferimento Lo ha rigettato Ma ha comunque subito dei danni Oddio che fa Perché non funziona mai tutto Al primo colpo Vediamo chi è entrato Questo è il decimo tentativo A mo ti dice chi è penetrato Vediamo chi ha penetrato Lo ha rigettato Con una determinazione forte Abbastanza da rubare persino noi Ah quindi abbiamo fatto un piano de merda Suppongo sia possibile anche una cosa del genere En è stato l'unico a riuscirci Ciò spiega i danni causati En Zetsu Azzurio Questo significa che non può Tenerci fuori del tutto Vorrei potermi approfittare Di quelle dita giganti Penetrazione dita giganti Ma le due volte in cui il trasferimento ha funzionato Ho dovuto schivare le dita Per colpirlo al petto Non posso farlo tramite le dita giganti Probabilmente sarebbe come colpire Delle unghie O della polvere Va bene Ok Queste sono visioni di Loro due che in realtà si vogliono bene dentro Beh ma sì Odio amore qua Vai Che carini che si tengono per mano Madonna quanto è grosso Urk Ma no perché Oddio Non lo so se Cioè mi sembra come se Quello sopra fosse Toscinori Ormai te quello sotto è lui da bambino E poi lui è bambino E cioè Sono giganti rispetto a A Shigaragi Non lo so No vediamo Vediamo Magari è soltanto Posso dire che A livello Proprio di Di prospettia e disegnere Grazie Coby One Bravo Bravo Coby One Grazie Quella è all for one Si è iscritto con il Prime E' proprio Cioè io me lo immagino anche animato Che ci stanno loro Con queste figure giganti In questo tunnel onirico Molto bello Ah dici che sono Tu mure o il for one Ma si ma perché Se vedi che loro hanno letto Tu lo fa vedere dopo Ah ma ok Eccolo E queste dita giganti Queste dita giganti Maledette Perché c'ha le dita giganti Maledetto Il boccino d'oro Oh mio dio C'è buona Capsule che è Ariadovegeta Grande Oddio ma è il boccino d'oro Proprio Cioè è proprio identico Al boccino d'oro Ci sono ispirati Esiste Il nostro servizio Di comunicazioni satellitare E' stato sabotato A distanza Da qualcuno Che si trova Molto molto Lontano da qui A prescindere Dalla situazione critica La UA Continuerà ad avere Dei nemici E non è la brava Ci sono Ci sono Ci sono Il tizio Dell'associazione Contro i Va bene Già è così e basta Ho capito Ah la minchiottina Grande Questa chi è La tizia Quella che prepara Quella che costruisce Ha costruito il boccino Grande Ho creato questo piccolino Per far sapere a Midoria Che stavo lavorando Ai suoi guanti Ah gli mandiamo dei gadget Grande Ma ha subito Un atterraggio di emergenza Quindi Ho aggiunto alcune nuove parti Lascia che ti aiuti Prenditi cura dei feriti E fammi sapere Se qualcuno Non è in grado di camminare Quello è cemento Può essere Sì Sembra E quell'altro È gentle criminal Grande gentle criminal Grande gentle criminal È ancora mio cliente Perciò devo tenere Un occhio su di lui Per garantirgli Un servizio ancora migliore Lui ha fatto arrestare L'uomo che amo Spingendolo così A diventare Una persona migliore Bravo Ammitoria Ammitoria per il sociale È importante Cioè a volte serve Un bastone alla carota Una spinta Grazie Rishade Rishade Dai Rishade si è iscritto One left Grazie mille Grazie mille Oddio Atterraggio di emergenza Atterra Viene da aiutarci Devo continuare a fare Il tifo per lui Ad ogni costo È vero Perché qua siamo rimasti Ancora Agente Che deve attutire La caduta Ah oddio È ancora lì Ma penso l'abbia fatto Oramai No sì Siamo di nuovo In diretta Eh vedi Questo se gli vai Il cellulare in classe Sai come va virale con questa diretta Eh beh cazzo Un'isola che casca Tanta roba E questo cosa diavolo è Rifugio di evacuazione Guardate Che significa Quelle sono Mani Mani Dita giganti Ehi Aspetta Ma questo è fortissimo Perché non combatte Ma Eri Oddio Sta correndo verso La minchiottina Oddio Deve andare la bambina No Addirittura la minchiottina è tornata Oddio Ma come una pipa Quello si sdoppia Quello è fortissimo Attenzione Questa devi far tornare indietro il tempo Quello è Twice più forte Sai che fa Fa tornare indietro Shigaraki A prima Del trauma Però Lei Sembra che stia correndo Da qua dentro Non si capisce Si ci metterà almeno 5-6 capitoli Ma no ci metterà 5 giorni Ma quanto ci deve Deve andare lì A attaccarsi a uno C'è l'immagine Allargata In realtà Lei era dentro il boccino Non lo so E sta correndo Per ora è tutto molto confuso Perché è tutto morta Sono tutti nella mente Dei Shigaraki Fanno una festona Fanno una festona All'addentro Nella mente sua Si però Mentre gli sta per ammazzare Arriva la minchiottina Che lo fa Gli fa rivivere il passato Con nonnina Non sei veramente cattivo Sono gli altri Che ti hanno reso cattivo Nonna c'hai ragione Sono diventato buono Ah che bello No non lo accetterò mai Si si nonna Che bello Sono diventato buono Scena figa Corcane E quando dice sono diventato buono C'è un pugno da dietro Che lo apre Ah coglione Non vedevo l'ora Arriva Urfru Andaglio Deficiente Sono arrivato io Adesso mi dico in culo a tutti Dai scontato L'evoluzione poi di questi personaggi È sempre No non lo accetto Dai dai Ti prego Diventa buono Diventa buono No non l'accetto Diventa buono Va bene Però ho fatto cose cattive Come faccio Fatemi rimediare Ma si può sempre rimediare No è troppo da rimi sacrifico Si può sempre rimediare Eh sì E poi le dinamazioni sono O si sacrifica Oppure Vi sono tutti felici e contenti Vabbè E niente Non mi sono piaciuto di tanto No 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 Purtroppo Purtroppo no Ti dico che Per quanto A livello Concettuale Questo in realtà Ci sta Cioè Ci stanno Ci sta l'idea Alla base Di uno scontro Anche Emotivo E psicologico Tra Shigaraki E Midori Però non mi piace molto La realizzazione E Al contrario di quello Che è successo prima Ovvero La Mobile Suite Gundam Con Toshinori Che invece L'idea è veramente Una merda Però Però la realizzazione Era Piacevole Capito Cioè Comunque sia Ti intratteneva Se spegnevi il cervello Quindi sono un po' L'opposto Queste ultime due parti Che Che abbiamo letto Secondo me Livio avrebbe da ridire Pure su Kagura Baci Beh Non lo so Io ho letto solo Il primo capito Non è che Kagura Baci Sia così Inattaccabile Allora Questo weekend Mi sono Recuperato Kakegurui 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 Non mi è dispiaciuto Bello trash Bello potente Poi ho visto Ah Devi vederti Fino a puntata 3 Di Blu Blu Com'è che si chiama Quello che disegna No Quello che disegna Blu Dai ragazzi Voi lo sapete Sta su Netflix Pure Blu period Blu period Vedi la terza puntata Impazzisci C'è una cosa Che ti fa impazzire Ma in senso negativo No In generale Ti fa impazzire Basta Blu period Blu Segno Ti puoi vedere Anche solo La terza puntata Se vuoi Quanto è lungo? So Stai un 12 episodi Un episodio Sono 20 minuti Sì Vabbè Comunque Io Do 5 Sì Sono d'accordo 5 Ma perché Siamo nel momento Blu E devi Aiparmi Non Demoralizzarmi No Sì Sì No Tokyo Ghoul L'ho droppato Non ci siamo Poi magari Lo riprenderò Vediamo Poi è lungo Il cameriere In cosplay di Sanji Mi ha detto Che è la sua È il suo manga preferito Mi ha detto Di leggermelo E devo decidere Se dai retta Al cosplay di Sanji Al sushi Oppure no Vedremo Perché ho quasi finito Kingdom Adesso avrò Un nuovo Obiettivo La action di Avatar Mo lo comincio Ma è quello che non è Era in lista Era in lista Perché mi manca Un ultimo episodio Di Night Country Che appena finisco Colpe l'episodio Siete due detective Era in lista Avatar Meglio Mera Accademia O Jujutsu Allora ti dico Come personaggi Sono meglio Mera Accademia Cioè La caratterizzazione Medi dei personaggi Mera Accademia A me piace Come dinamiche Secondo me Jujutsu Kaisen Ha un picco Che Mera Accademia Non ha Cioè Sì Shibuya È veramente Figa Mera Accademia Non Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen È più imprevedibile Poi Disegni Vabbè Mera Accademia Pacca al culo Io sono più affezionato Ai personaggi Poi c'è postato Poi c'è Poi c'è anche un'altra parte A me piace tantissimo Jujutsu Kaisen Che però L'anima ancora Non ci è arrivato Quindi Non Non spoilerò Per ora Comunque ragazzi Io direi Di fare una cosa Vediamo Non è sicuro Magari domani pomeriggio Ci leggiamo One Punch Jujutsu Kaisen Non è la questione Tanta La questione di fruizione Delle pagine Jujutsu Kaisen Perché te lo dico Cerco dominio Nel dominio Del subdominio Io ho dato mezzaletta Cioè ci devi stare molto presto Beh se tagliamo È lungo Cioè si può fare Quattro, cinque Purellato No se è lungo Più ritardiamo Sì esatto Più è lungo Più se aspettiamo Sarà peggio allora Sì Ma più che altro Che secondo me Il capitolo Vabbè Non senza fare Sai troppe cose Sì esatto Cioè qualcosa Cosa devi dirci No è che io Perché a me una volta È successo Che dove mi arrivano A me le mie cose Non c'erano Due pagine finali Quindi io adesso Per controllare Faccio questo E scorro Per vedere se ci sono Le pagine finali Non lo leggo Però un'occhiata Gliela do Beh sì sì E io sono tante scritte Quella Quell'occhiata No una precisa scritta Quell'occhiata Che do ogni porta Mi fa capire Che siamo a un punto In cui potrebbe succedere qualcosa Poi pure fare così Vabbè ma non è che Cioè se mi chiedi Che è successo Se menano Beh c'è il dominio Sì se se menano Vabbè lo sai che se menano Non è finito lo scontro Ah no Non è finito Eh vedi Spoiler Va bene Vabbè vediamo Vediamo Comunque Questa sera Questa sera Vediamo Lo decidiamo Stasera Abbiamo deciso Che la discussione Sulle bestemmie Sarà un Phil Rouge Che accompagnerà Tutte quante Nostre live E magari Facciamo Insomma Parliamo anche un attimo A questo punto Di Sdrumox Cioè se sentiamo anche Che ne pensano Gli altri Non so in realtà Che cosa c'è da dire No 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 Però No no ma Non tanto di Sdrumox in sé Quanto del fatto che Twitch si sia mossa Grazie Nefa Bella Nefa Sì sì Questo vuol dire che L'incipit sarà quello Esatto Poi qualcuno dirà qualcosa E da quel qualcosa Si sfierà verso Nuovi orizzonti Perciò sempre Dele di Chico Chirio Quello è Diciamo Ce la spartiamo No da dove nascono Poi le derivazioni Dal punto di vista Argomentativo E di Idea E da te che Le di Chico Chirio Si apre un discorso Alla Sommo Buta I disegni non disegni Oggi non vado live Perché c'è stata Roma Tra poco Che sparata che ha fatto Sommo Questa staglia In faccia Che porta Quando andrò da lui Mi vergognerò Un po' di entrare In un canale Di uno che dice Che nei manga I disegni non disegni Ma quello dice pure Chirio La cosa è accettabile Chirio è sostenitore Di questa idea Ma è proprio questo che deve Far capire a Sommo Buta E sta dicendo una strozzata Oppure loro pensano Che sei tu L'eretico Ora possono pensare Quello che voglio Grazie ragazzi Ci vediamo stasera Alle 22.30 Bella raga Di Padella Grazie a tutti Grazie a tutti